Perfetta, avete visto come è tonata? Avete visto come perfetta è tonata? Benissimo! Ero sempre io, sempre in tutte le mie ricette e vedete che sono meglio di cracco e guardate cosa ho fatto per voi, guardate, è perfetto, guardate la donatura, guardate che pizza eh? Che pizza che ho fatto! Avete visto? Assoggiamola, buonissima, buonissima, cotto e cotto, buonissima, cotto e cotto e mi pedo!